Però Max, io ti ho qui, non posso non partire da un argomento che forse è stato poco sviscerato negli ultimi giorni, soprattutto qua in Italia e nel resto del mondo no, però insomma abbiamo assistito, io a qualche spezzone, devo dire la verità, però anche perché non ho capito bene come si faceva ad entrare nello streaming, ci ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito, poi mi spiegherai perché c'è ancora disponibile, però insomma abbiamo assistito allo spettacolo di Yazuru Hanyu, il più grande possiamo dire di questo periodo, ma forse di sempre, è un grande personaggio che ha messo su questo spettacolo ed è andato al Tokyo Dome, la patria del baseball, adesso Francesco saprà qualcosa di più rispetto a me di questo luogo sacro, però insomma Max, io voglio sapere che cosa ne pensi tu di questo spettacolo, l'avrai visto, l'avrai sviscerato, che cosa hai visto in queste ore e mezzo di spettacolo? Molto più di un'ora e mezza, in realtà alla fine due ore e mezza, io non l'ho potuto vedere in diretta, nel senso che mentre si è svolto ogni tanto sbirciavo per capire che cosa stesse accadendo, ero impegnato con telecronache di Albi Sport e poi sono riuscito a rivederlo oggi con calma e è semplicemente il più grande evento nella storia del pattinaggio di figura, parliamo di una storia ultrasecolare, tanto per rendere l'idea non c'è edizione dei giochi olimpici che possa essere paragonata a questo evento. È stato allestito una pista gigante con un mega palco, un mega schermo, hanno partecipato musicisti, artisti di vario genere legati alla musica. 33 mila paganti con biglietti assegnati tramite lotteria, perché le richieste erano in maniera infinita superiore. Queste cose succedono per vendere i biglietti dei giochi olimpici di Parigi, ci saranno delle lotterie, no? Ecco, per darvi un'idea di quello che è stato. Quindi lì dentro 33 mila persone. La capienza superiore del Tokyo Dome, ma per come è stato strutturato lo spettacolo, 33 mila erano quelle che potevano stare all'interno dell'enorme impianto. Poi, chiaramente sono stati utilizzati dei cinema per cercare di trasmettere in tempo reale l'evento e anche nei cinema si è arrivati a 33 mila persone. In più, vanno aggiunti tutti quelli che hanno pagato un abbonamento, quindi hanno comprato un biglietto, banalmente, per seguire l'evento da casa con vari device. Io le cifre su quelli che hanno effettivamente comprato il biglietto non le conosco, però ragazzi, si tratta di qualcosa che va oltre il pattinaggio. Nella vita bisogna avere anche la capacità di cambiare opinione. Io ho sempre sostenuto, parlando in termini generali, che lo sport arrivasse sempre prima dei suoi personaggi. Per il pattinaggio di figura non è così. Anio arriva prima di quello che è il pattinaggio di figura attuale. A tal proposito, forse, bisognerebbe porsi delle domande riguardo al trattamento che è stato riservato nel tempo a questo atleta, che in questo spettacolo chiamato Gift, traduzione di Gift? Regalo. Ecco, appunto, un regalo che lui ha fatto al pubblico del pattinaggio di figura. Racconta anche il suo percorso interiore, che è un percorso di sofferenza, di sofferenza perché si rende conto di come il suo sport stia andando alla deriva. Il percorso di una deriva che si sente solo perché capisce come il regolamento non venga più rispettato per come è stato scritto. E' stato qualcosa di impressionante, anche perché poi il tasso tecnico dell'evento è stato alto. Cioè, lui ha eseguito tanti programmi durante questo show e in questi programmi c'erano salti quadrupli, c'erano tanti tripli axel, c'erano tripli. Cioè, voi pensate a un atleta che prende parte di una gara agonistica. Un programma al giorno fai. Lui, cioè, ragazzi, è una roba folle. Io non so cosa dire. Cioè, lui ha pattinato 12 programmi, quindi vuol dire che si è cambiato 12 volte, 11 volte, perché utilizza 12 costumi. E poi con che costumi, Max? Perché io ho visto... Eccezionali, sì. L'ingresso è valso veramente il prezzo del biglietto. E poi uno dei primi programmi è stato Open Legacy. Per me bastava già così. Cioè, per me Open Legacy è il pattinaggio. È il punto più alto mai raggiunto dal pattinaggio di figura. Open Legacy è un programma che è stato pattinato in maniera celestiale nei campionati mondiali di Helsinki del 2017. Prima di quello non c'è stato niente di più grande. Dopo di quello non ci sarà niente di comparabile. Cioè, questa è la realtà. Quindi ha riproposto tanti programmi che hanno fatto parte del suo passato agonistico. Ci sono stati programmi di esibizioni che tutti conoscono. Anche qualche novità. Perché è chiaro che quando tu organizzi uno show di quel tipo, è bello portare al pubblico qualcosa di nuovo, no? E quindi abbiamo visto anche delle novità. Cosa puoi dire? Cioè, è da pelle d'oca. È una roba da l'acqua. Io faccio anche fatica a raccontarlo, perché... Poche volte ti ho visto così emozionato. No, no. Perché qui si va oltre proprio al concetto di sport. Ripeto, tecnicamente parliamo di un atleta che si è ritirato dall'agonismo ed è passato al professionismo. Cioè, ha eseguito sette quadri, ha eseguito sei tripli axel, il numero di tripli non me lo ricordo neanche. E tutto questo da solo. Cioè, come la grande star della musica, qui abbiamo la grande star del pattinaggio che propone i suoi successi e qualche novità. Però sai, la star della musica deve cantare su un palco, sì, si muove, eccetera. Recita anche una parte. Questo deve pattinare per quattro minuti, ogni programma. Alla fine, il pattinato è stato di tre quarti d'ora, no? Nel mezzo c'erano intermezzi di vario tipo, c'è stato anche quello che possiamo chiamare una pausa di 30-40 minuti per il ristacimento del ghiaccio. È stato semplicemente qualcosa di epico, ecco. Che dimostra la grandezza di questo atleta, che sicuramente per quello che sta muovendo va ritenuto uno dei più grandi uomini di sport della storia. Perché ci sono i risultati, e quelli parlano per lui, no? Due titoli olimpici, due titoli mondiali, innumerevoli finali del Gran Previnte, eccetera. Ma poi c'è quello che tu muovi attorno al tuo sport. E nel pattinaggio di figura, nessuno è mai arrivato a muovere un decimo di quello che sta facendo a New York. Non ci sono Torviledin che tengano, non ci sono Caterina Witt che tengano. I contemporanei non li cito neanche, perché chi cito? E quindi è qualcosa di incredibile. Per cui io invito tutti quelli che non abbiano visto questo show ad adoperarsi, perché è ancora possibile sottoscrivere l'abbonamento e vedere uno spettacolo unico. Ripeto, il più grande evento nella storia, ma non del pattinaggio di figura. Degli sport del ghiaccio. Forse andiamo anche oltre la famosa finale olimpica di Lake Placid, 1980, Miracle on Ice, su cui poi gli americani hanno fatto film, romanzi, chi pina qui ne metta. Qui abbiamo un solo uomo al comando che porta in pista il suo pattinaggio, che racconta la sua storia e lo fa con un tasso tecnico incredibile e ineguagliabile. Non si è mai visto niente di più completo di anni uno nella storia del pattinaggio. E mi fermo perché faccio fatica. E' un tema che mi colpisce sempre molto questo. Poi mi rendo conto che non tutti arrivino a capire. Probabilmente chi è cresciuto sul ghiaccio vive il fenomeno New in maniera un po' diversa. Però è qualcosa che mi tocca molto. Dicevo due domande. Questo è il cuore, no, Max? È giusto così. Dicevo, possibilità di rivedere a New in gara e l'altra domanda, possibilità di vedere a New con questo spettacolo fuori dal Giappone. Ecco, possibilità di rivedere a New in gara con il regolamento attuale anche, no? Io credo che nessuno dei suoi tifosi lo vorrebbe vedere in questo pattinaggio. Ecco, è un pattinaggio dove ormai conta solo la somma di salti quadri, no? Sì, l'arte è messa da male. Un mero... Bravo, mi piace. L'arte è messa da male. Un mero calcolo matematico. In più, un pattinaggio molto impoverito da un punto di vista anche dei passaggi di transizione, dell'utilizzo dell'attrezzo, no? Va bene. Questo è, ma va bene così. A riguardo la possibilità di vedere questo tour fuori, lontano dal Giappone e anche in Europa, sarebbe un bel sogno per tanti, ecco. Io credo che forse una possibilità ci potrebbe anche essere. Attenzione. Uno spettacolo di quel tipo richiede poi una pausa di una settimana, dieci giorni, perché ti devi anche riprendere, cioè devi avere una condizione fisica di un certo tipo. Però, secondo me, organizzare nell'arco di un mese tre eventi in altri paesi. Il primo è la Cina, perché il pubblico cinese è eccezionale, eccezionale, hanno una venerazione per Yuzuru incredibile e loro meriterebbero di avere quel tipo di spettacolo, non so, in uno dei grandi impianti di Pechino. Poi, insomma, la Cina sa creare anche qualcosa di miracoloso, no? In termini di impiantistica. Troverebbe una soluzione, per me metterebbero 80.000 persone a seguire un evento di quel tipo. Due date in Europa sarebbero qualcosa di incredibile, però bisogna lavorarci, bisogna capire se ci sia la disponibilità. A breve vedremo Yuzuru impegnato in altri spettacoli diversi. Per ora Gift rimane una sorta di una tantum, no? Un evento unico nel suo genere. Sai, un evento che è unico nel suo genere è anche difficile da esportare altrove. Assolutamente. Però la speranza è quella di poterlo vedere anche in altri paesi. Ecco, in Cina dovrebbero organizzare una lotteria con, non lo so, un miliardo di persone, quindi diventa difficile quanto vincere a Super Enalotto. E in Europa, sì, ci sarebbe una richiesta di biglietti folle. Beh, vedi, l'interrogativo da porse è seguente. Ma com'è possibile che un pattinatore ritirato metta assieme tutti questi numeri e negli eventi attuali del pattinaggio di figura non si riesca a riempire impianti da 5.000 persone almeno per la metà. Io credo che ci si debba interrogare su queste situazioni, si debba provare a trovare delle risposte a questi interrogativi. Se la risposta non c'è, e non ci può essere, o meglio, la soluzione non c'è con questo pattinaggio e non ci può essere, io credo che forse negli ultimi anni sia sbagliata totalmente la direzione presa. Cioè, si sta andando in un senso che rischia di portare il pattinaggio di figura allo sfascio. E lo dico con parmare... Attenzione, massimo rispetto per tutti gli atleti che faticano ogni giorno per dieci ore per essere pronti per i grandi eventi. Il problema non sono gli atleti. è probabilmente la gestione di tante situazioni discutibile, un regolamento che non sta in piedi e viene malinterpretato da giudici sovente non all'altezza della situazione e tutto questo ha portato a questa situazione. Per cui io conosco tanti appassionati di pattinaggio che non seguono più le gare ma non si perdono uno spettacolo di a new. E su questo bisogna ragionare. In estate ci sono stati altri spettacoli in Giappone. A new riempiva. Nell'altro spettacolo c'erano i campioni olimpici, i campioni mondiali, tanti atleti, quindi uno contro tanti e da una parte sold out, dall'altra parte metta biglietti venduti. C'è qualcosa che non torna, no? O meglio, abbiamo una figura di una grandezza incredibile, un'icona che in questo momento è ritenuto dalla gente più credibile di tutto il resto del pattinaggio. Questo, e lo dico, mi dispesso per il pattinaggio, lo dico anche con un po' di rammarico, però questa è la verità e massimo rispetto per per a new yuzuro, che insomma siamo ormai ai livelli di una divinità, ma è giusto che sia così. Francesco, volevi dire qualcosa anche tu? Ma il discorso è che una cinquantina di anni fa uscì un film di fantascienza, distopico, Rollerball, con James Gunn, c'era Jonathan Neen, ed era l'uomo che diventava più grande del sistema. E ci fu il sistema che lo fece fuori, ma l'uomo vinse, vinse contro il sistema. Chi non ha mai visto Rollerball, lo guardi, credo che sia del 75. Isura New è diventato quello, a livello sportivo del pattinaggio di figure, è diventato James Gunn in Jonathan Neen. Bisogna vedere il film per capire che cosa intendo. Chi lo ha visto lo sa, chi non lo ha visto lo recuperi e capirà, se vuole capire che cos'è Isura New in questo momento, lo mettete su Jonathan Neen e sul sistema. Detto questo, riguardo la possibilità di replicare Gift, non lo so. Non lo so perché la cultura giapponese a volte... Cioè, in Giappone non c'è, non c'è, per fortuna, non c'è ancora quella mentalità plasticosa della produzione di massa che proviene dal Nord America, dove tutto è industrializzato, dove tutto è omogeneizzato, dove tutto è omologato, dove tutto viene prodotto proprio a livello industriale. in Giappone c'è ancora il concetto di opere artigianali, dell'unico, e Gift può essere inteso come un unico da parte di Anew. E' questo che forse dovrebbe consigliare di non replicarlo proprio perché è una cosa fatta solo ed esclusivamente per una volta, per questo contesto, è stata registrata, è un'opera, è un'opera che potrebbe essere mai più replicata proprio perché non è che Michelangelo, Buonarroti, piuttosto che Leonardo da Vinci hanno dipinto dieci gioconde, piuttosto che hanno effettuato dieci sculture. Una ne ha fatta e quella resta. Il concetto deve essere questo, bisogna ragionare in questo modo. Poi si vedrà se sarà effettivamente così, ma non è da escludere che Gift sia appunto un regalo. E' un regalo, è un grande regalo. Insomma, ripeto, il regalo che ho avuto io è rivedere Open Legacy, ecco. A me bastava quello. Io voglio essere onesto, avevo altri impegni, avessi potuto avere scalato l'Evers per essere presente in loco e per vedere uno spettacolo di quel tipo i mille euro li metti sul piatto. come tanti amici hanno fatto per andare a seguire una finale NBA. C'è il bagarino, poi Giappone è un altro mondo, però mettiamo caso ci fosse stato il bagarino. Ticket, ticket. Pronti, pronti. E ti diceva mille euro. Va bene, tienilo, ok. Piuttosto fai sacrifici dopo e mille euro gli dai. Sono d'accordo. Adesso noi ci accontentiamo anche di un po' di meno. Se proprio non vuole portare Gift, se anche ne importa un po' di questo Gift. C'è un altro show importante che lui ha portato sul ghiaccio in autunno, sold out ovunque, anche lì, cinema, coinvolti, chi ha fatto numeri pazzeschi, a noi andrebbe bene anche quello. O quello che lui deciderà di fare, perché sicuramente non rimarrà fermo, cercherà di creare nuovi programmi. Lui ormai è anche coreografo di se stesso, ha raggiunto una padronanza tale di tutto quello che sia pattinaggio da poter fare quello che vuole. E chi sa che un nuovo spettacolo non possa avere delle tappe anche in Italia. Ho detto che in Italia c'è stato uno spettacolo importante di pattinaggio di figura in questi giorni a Torino, sabato sera, incentrato sulle musiche dei grandi film, organizzato da Giulia Mancini che è una promoter che si è spesa tanto per il pattinaggio di figura negli anni. ovviamente Gift è qualcosa di inarrivabile, però credo che visto anche il successo che ha avuto lo spettacolo di Torino ci sia grande interesse in Italia ma come ovunque in Europa per eventi di quel tipo. Se tu offri pattinaggio di grandissima qualità con interpreti soprafini, musiche che evocano dei ricordi importanti, il risultato lo tieni e quindi penso che avere a New in Europa per un suo spettacolo sarebbe qualcosa di epico e anche in Europa alla fine dovesse organizzare la lotteria perché sai se organizzo un evento del genere ad Helsinghi nell'Arto dell'Arena che è il gioiello europeo per gli impianti per gli sport del ghiaccio puoi arrivare a 15.000 17.000 persone forse qualcosa in più però le richieste sarebbero di milioni di appassionati e quindi che fai organizzi la lotteria anche lì ecco a meno che non si arrivi a un 100.000 scomodando qualche stadio enorme insomma i numeri vi rendete conto del peso di questi numeri assolutamente sì anche perché così insomma mi viene in mente qualche concerto a San Siro con 70-80.000 e insomma non è che lo fanno in tanti stiamo parlando di artisti planetari di fama planetaria Iazuru noi ti aspettiamo sappilo quando vuoi venire noi siamo qua siamo pronti ad accoglierti con il tappeto rosso ma anche 10 o 15 tappeti rossi bene no ho avuto piacere di iniziare così perché so che è un argomento che che ha toccato tanti e quindi credo che saremo diversi ad andare a fare questo abbonamentino io cerco di capire il giapponese ci ho provato domenica mattina ma non ci sono riuscito però ce la faccio provato provato ma non ci sono riuscito ma non ci sono riuscito Grazie.